Riferiva rispetto al cane Bertrando, mi pare di capire, io ho chiamato il sindaco Andrea Pozzo perché penso che la politica sia qualcosa di utile quando fa qualcosa, non tanto quando fa su un caso gli annunci e dopo restano carta scritta o vengono messi in un cassetto. Allora per cercare di essere pratici, come avete chiesto e come stiamo cercando di poter fare anche grazie all'istituzione di uno sportello, ho chiamato direttamente il sindaco Andrea Pozzo, il sindaco Andrea Pozzo mi ha detto che stanno attendendo, conosce la situazione, stanno attendendo dei feedback perché lui è andato avanti con questo tipo di richiesta in procura, quindi stanno attendendo dei feedback dalla procura stessa e mi ha assicurato, io gli ho mandato un messaggio, mi ha assicurato che entro questo pomeriggio la chiamerà, la contetterà per cercare di parlare di questa situazione. Perfetto, quindi la chiamerà entro questo pomeriggio e quindi vede che magari un piccolo passo avanti cerchiamo di farlo. Per quanto riguarda quello che ho sentito sinora, sono perfettamente d'accordo.